Dopo il polemico botte e risposta a fatto di comunicati stampa tra il direttore dell'ASP di Ragusa, Maurizio Aricò, e il vice sindaco di Modica in merito agli adempimenti sul progetto di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, l'ultima dichiarazione del direttore ASP non lascia dubbi sul fatto che si registrano dei ritardi per l'esecuzione del progetto stesso. Lo dichiara oggi il consigliere di Selvito D'Antona che fa un escurso temporale sulla vicenda ricordando come in ben due conferenze stampa congiunte tra il direttore e il sindaco di Modica il 10 febbraio e il 12 maggio era stato presentato il progetto sottolineando con enfasi la sinergia tra le due istituzioni. Nella conferenza stampa congiunta del 10 febbraio, in occasione dell'accordo sul debito del comune con l'ASP, veniva annunciato che il bando sarebbe stato pubblicato entro il 25 maggio 2015 e che i lavori sarebbero stati ultimati entro il mese di maggio 2016. Nella successiva conferenza stampa del 12 maggio veniva precisato che con le risorse disponibili era stato redato un progetto esecutivo. A distanza di soli sei mesi i cittadini di Modica e del comprensorio, dopo tante parole promesse a fronte delle ormai criticità che il pronto soccorso registra, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzata da un afflusso notevole di utenti dal sovraccarico di lavoro per gli addetti, apprendono che il progetto non è ancora esecutivo e cantierabile, così come oggi denuncia D'Antona. Inoltre, dopo la chiusura dell'area di fronte alla nuova alla dell'ospedale, utilizzata anche se condizioni precarie dagli utenti che si recavano in ospedale, in particolare presso il laboratorio analisi, non si hanno più notizie della progettazione e della sua sistemazione. Secondo quanto scrive il consigliere Di Sella, vicenda del pronto soccorso e del parcheggio dimostrano come il sindaco e la sua amministrazione, al di fuori dei proclami, non siano in grado di difendere e tutelare gli interessi della collettività, né di pretendere rispetto dei tempi di esecuzione delle opere che attengono ai servizi e alla salute del comprensorio. A questo punto, oltre che sollecitare l'ASPA a fare in fretta e bruciare le tappe, il consigliere chiede che ci sia una conferenza dei sindaci delle città della ex provincia di Ragusa, che prenda in mano la problematica, superando l'inerzia amministrativa dell'amministrazione modicana nell'interesse dei cittadini che fruiscono del servizio.